Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta. Non ci sono intoccabili. Non mi fa intenda, ma ha più paura dello Stato che della mafia. Onneto! La sei stata! Onneto! Onneto! Io sono Stato e resto. Un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito l'ideale di Cosa Nostra. Per questo, io non mi considero un pentito. Un uomo d'onore. Un uomo d'onore.